E' stata l'associazione Partecipazione e Sussidiarietà per Grosseto ad organizzare un incontro conviviale durante il quale il dottor Bruno Mazzocchi, responsabile dell'Hospice e dell'Ambulatorio di Leniterapia presso l'ospedale di Grosseto, ha illustrato le finalità del lavoro della sua equip, le iniziative attuali ed i progetti futuri. Quali sono i progetti di cui il reparto di Leniterapia ha più necessità al fine di prestare un servizio ancora migliore ai malati? I progetti sono essenzialmente tre, il progetto di implementare con forze e con risorse del volontariato l'assistenza domiciliare al paziente oncologico in fase avanzata di malattia, il progetto che riguarda l'assistenza psicologica soprattutto di supporto non solo all'equip dei curanti ma anche alla famiglia e anche nel periodo del lutto e ai malati che lo richiedano ovviamente. E il terzo progetto è un progetto molto più complicato, molto più complesso che nasce dall'idea dei pazienti affetti da tumore dell'encefalo che dopo numerosi trattamenti chirurgici, radioterapici, chemioterapici e quant'altro vivono anche molto a lungo con gravissime disabilità. È un progetto interessante di una modalità di assistenza particolare al quale si possono aggregare in qualche modo altre tipologie di pazienti che soffrono delle stesse gravi disabilità come la sclerosi laterale amiotrofica, la sclerosi multipla, l'Alzheimer in fase avanzata e perché no anche gli stati vegetativi più o meno persistenti. Massiva la partecipazione degli amministratori locali, nelle loro parole una chiara dichiarazione di intenti. La politica deve integrarsi con il mondo del volontariato e dare risposte concrete affinché l'assistenza sanitaria, soprattutto nel fine vita, si distingua per qualità e pubblicità. Come potremmo definire il limite tra il volontariato e il diritto dei cittadini? Io credo che il diritto dei cittadini si rivolge necessariamente nei confronti delle istituzioni. Sono le istituzioni che devono garantire ai cittadini diritti in termini di pari opportunità di accesso ai servizi sociosanitari ma al tempo stesso in quello che il pubblico non riesce a fare per rendere ancora più significativo la propria capacità di penetrazione possa dire di avvalersi su un volontariato di qualità che ovviamente va a implementare una risposta che in primo luogo deve arrivare necessariamente dall'istituzione, non potrebbe che essere così. Soddisfatto per la riuscita della serata, il presidente dell'associazione, Amedeo Gabrielli, dichiara raggiunto il suo primo obiettivo. Dunque speriamo in una risposta di carattere politico. Esatto, noi speriamo appunto che questo incontro possa poi dare luogo a un impegno veramente forte da parte dell'amministrazione comunale e provinciale e speriamo anche quella regionale affinché il progetto Tor Mazzocchi si possa realizzare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.